E' stato arrestato durante un blitz dei carabinieri Nasiri Hakim, uno degli afghani ricercati per terrorismo internazionale fermati con la stessa accusa a maggio dello scorso anno. L'uomo era con altri quattro connazionali richiedenti asilo politico ed in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio al momento ritenuti estranei fatti in un appartamento al piano terra del quartiere Carassi di Bari. Non ha opposto resistenza, la cattura pone fine così ad una latitanza di poche ore dopo che ieri la Suprema Corte di Cassazione si era pronunciata contro il ricorso presentato dal legale dell'afghano contro l'ordinanza di custodia cautelare che era stata emessa dal Tribunale del Riesame del capoluogo pugliese lo scorso luglio. I fatti risalgono a maggio scorso quando la DDA di Bari emise un provvedimento di fermo a carico di quattro afghani ritenuti responsabili di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico oltre che di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il provvedimento scaturì da un'indagine avviata dal nucleo investigativo e dal ROS il 16 dicembre del 2015 quando una pattuglia della compagnia di Bari San Paolo aveva notato i quattro mentre effettuavano riprese all'interno di un importante e rinomato centro commerciale della zona. Da lì le indagini che hanno permesso di accertare come uno dei quattro un trentenne avesse collegamenti telematici con un noto sito talebano scaricando video e proclami ineggianti alla Jihad e fotografie raffiguranti un noto capo carismatico talebano ucciso durante un raid dell'aviazione statunitense il 13 ottobre del 2015 mentre un 28enne avesse effettuato sia il filmato nel centro commerciale sia la ripresa dell'area d'imbarco accessibile solo a seguito di check-in dell'aeroporto di Bari-Paliese. Sul conto di Nasiria Kim invece era stata documentata la disponibilità in Gran Bretagna di un'arma d'assalto. Gli ultimi due latitanti rientrati nel paese d'origine sono tuttora ricercati e su di loro penne un provvedimento di arresto internazionale.